Dopo un campionato concluso con l'accesso ai playoff, il minimo sindacale rispetto alle ambizioni di dirigenza e ambiente sportivo, in Casa San Giovanni inizia dunque un nuovo torneo, che stavolta non è a turni ma è di eliminazione diretta. Non ci sarà spazio per le sconfitte, se non singole eventualmente, nell'arco delle sfide da 180 minuti nella fase interregionale. Da Anghiari la squadra esce senza problemi fisici e probabilmente queste due settimane serviranno a Travaglini per recuperare la forma e tornare a disposizione di Mister Coppi. Negli ultimi anni, dal ritorno nel professionismo, l'appendice dei playoff utili, escludendo gli anni della D, che formavano solo una graduatoria di merito, sono stati affrontati per tre volte dal Marzocco. Nel 2001-2002 la Corsa si fermò alla finale persa con la Propatria, dopo aver eliminato a sorpresa l'Alessandria in semifinale, ribaltando la sconfitta interna per 1-0 con un 3-0 al Moccagatta. Due anni dopo, invece, Gubbio e Gualdo furono due avversari messi in fila per la scalata centrata alla C1 e nel 2006, poi, il doppio 0-0 con il Frosinone, escuse gli azzurri dalla competizione per la B per il peggior piazzamento finale in campionato. È insomma un appendice che il pubblico azzurro conosce anche se le categorie erano diverse e soprattutto eventualmente sarebbe molto più lungo adesso il cammino per la vittoria finale, con due turni interregionali da superare. Ma intanto ecco il San Gimignano il 28 aprile per la semifinale.